Ma come legge amore? Ragazzi alle 6 oggi ricominciano le dirette dal balcone quindi seguite l'account di Fede perché alle 6 ci sarà la diretta con un ospite molto speciale che tra poco vi comunichiamo e abbiamo Arisa alle 18 in diretta dal balcone sul profilo di Fede Scaletta pazzesca eh Scaletta pazzesca, ci lo dici? Eh no Ok niente, sul balcone? Sul balcone punto Ragazzi Disney Plus è online da oggi è una piattaforma di streaming in cui potete vedere tutti i film Disney del passato ma anche quelli del futuro insieme ai film della Marvel, Star Wars, Pixar e anche documentari di National Geographic ci sono anche i Simpsons Con Arvi dovete iscrivervi alla piattaforma, vi metto il link qua e io, le mie sorelle e la mia famiglia stiamo organizzando delle movie night per sentirci un po' più vicine i primi film che guarderemo sono Toy Story, Ray Leone e La Carica dei 101 Buona visione a tutti quanti So here is the platform and you see they have so many different titles I've already started watching Nemo and The Lion King Mamma Dimmi amore, che bella questa cosa Rosa Rosa, questo è rosso 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 First time Leo is a Easter Bunny Chocolate Easter Bunny E' buono amore Buono Bisogna averne cure Stringiti forte su di me Così non ho paura mai Così non ho paura di mio Dio Con dentro il nostro nome Meraviglioso amore mio Bisogna averne cure Stringiti forte Così non ho paura di mio Dio Così non ho paura di mio Dio Così non ho paura di mio Dio Ricordati Ragazzi che bello abbiamo venduto tutta la capsule collection online completamente sold out E tutti i proventi andranno a fronteggiare l'emergenza coronavirus in Italia Sono troppo contenta Grazie